Israele ama molto le piscine perché fa molto caldo il nostro paese. Quindi la gente ha sempre più bisogno di piscine perché rendono tutti calmi e pacifici. Io voglio dire che abbiamo un progetto, un grande progetto, con i nostri amici palestinesi. È il nostro progetto e questo progetto è... E che vogliamo costruire? Una bella piscina. Insieme. Allora noi abbiamo deciso di chiamare questo progetto Together Project. Perché è la pace il nostro progetto. È un progetto difficile. Anche noi amiamo l'Islam. Grazie a tutti.